Corcovado, un brano famosissimo di quel genere chiamato Bossa Nova. È stato scritto da Antonio Carlos Jobim, il maestro, possiamo dire, uno di quelli che creò questo genere insieme a Giao Giperto e molti altri che non stiamo oggi a citare. Per chi sa, io amo tantissimo il Brasile, la musica brasiliana e la sua cultura. E quindi sicuramente prima o poi dovevo affrontare un brano di musica brasiliana. Era stato proposto anche alla ragazza di Panema, che prossimamente analizzerò. Oggi vediamo insieme Corcovado. E Corcovado che cos'è? Cosa significa? Corcovado è il monte di Rio de Janeiro, dove c'è il Cristo Redentore. Probabilmente l'avete già vista questa statua, questo monte in video, film, foto o telegiornale. Voglio subito sottolineare che ci sono molti modi per vedere questo brano. Magari potreste trovare analisi leggermente differenti. Tengo a sottolineare che questa è una mia personalissima analisi, così da non creare dubbi. E anzi, se avete poi dei dubbi, scrivetemi nei commenti che vi risponderò, cercheremo di aiutarci. Ok? È un brano sicuramente complesso, a mio parere, come tanti brani di Bossa Nova. Ma andiamo subito ad analizzare, poiché questo brano richiederà molte, molte parole. Ok? Allora, perché qua per la prima volta, ormai, per chi mi segue lo sa, si segnano prima i 2,5, le risoluzioni delle dominanti, che siano dominanti secondari, dominanti che risolvono cromaticamente, eccetera. Ok? Appunto questo brano si può vedere in più prospettive, dal mio punto di vista, soprattutto certi passaggi, poiché altri sono molto palesi i movimenti armonici, no? Come ad esempio questo 2,5,1 di fa, insomma, non è che ci sia molto da... su cui riflettere, ok? Però, in certi punti, bisogna fare delle riflessioni più approfondite per capire al meglio il tutto. Ok? Per chi è qua per la prima volta, chiedo sempre scusa per la... un po'... un po' il disordine, poiché sono col mouse e queste analisi, diciamo, che nascono per dare delle ricette veloci, non tanto per approfondire, ma appunto per fare un'analisi insieme a voi, per passare anche del tempo insieme parlando di musica e di analisi armoniche, quindi parlare di qualcosa di più approfondito insieme, ok? Guardiamo adesso, Corcovado che ho appena assegnato 2,5, le soluzioni delle dominanti, allora c'è subito da fare un ragionamento, vado veloce perché ci sono tante cose da dire, come appena detto, e allora, se noi guardiamo queste otto battute come se fossimo in fa, poiché, come vediamo, tutto questo... questi accordi, diciamo, stanno andando verso in questa direzione, cioè il punto di arrivo è questo fa, almeno per queste otto battute, ascoltatemi bene, ok? Per questo fa e questo fa, ok? Fa sesta, fa maggiore settima, sono gli stessi accordi quasi, cambia solo la settima, ok? Se noi le guardiamo a questo punto di vista e noi guardiamo questo re settima come fosse, ad esempio parlo di qua, come se fosse il quinto del secondo, ok? Quindi il secondo qual è? Il secondo sarebbe questo, in prospettiva del fa maggiore, questo il quinto ovviamente, sarebbe una dominante secondaria del secondo, e quindi in questo caso di default si userebbe una misolidia a bemolle 13, però la bemolle 13 sul re settima è un si bemolle, si bemolle non ci sta propriamente bene qui, ok? Ok? Probviamente non ci starebbe bene, adesso cancello un po' tutto su questo accordo intendo. Quindi qui, che poi può essere visto anche come un la minore sesta, la stessa cosa, re settima al basso là, e quindi diciamo che questi primi otto non è che si possono proprio vedere come un fa, ok? È come se fossimo quasi in delle battute modali, ok? Che questo accordo indica precisamente la scala da utilizzare, che in questo caso è una dorica, comunque perché c'è segnato la sesta e segnata, anche sul re settima si userebbe una misolidia che vista da un'altra parte, dalla prospettiva del là, è una dorica, quindi io qua vi segnerei una dorica, ok? Ok, quindi per il momento tolgo qui il fa, questo la bemolle diminuito è un accordo diminuito discendente che discende dove? Discende sempre a questo sol minore settimo, ok? Vengono chiamati così, non segno niente su questi, ok? Però comunque qui, su questo accordo, o usate un arpeggio diminuito di la bemolle diminuito, o appunto usate un'ottofonica, ottofonica ovvero scala diminuita. Se voi partite dal la bemolle, fate tono, semitono, tono, semitono, e trovate tutta questa scala. Non posso purtroppo soffermarmi su questa scala, se avete dubbi scrivetemi. O tra l'altro questo la bemolle, che solitamente viene suonato facendo sentire questo mi, perché viene, come vedete, c'è molte volte, potrebbe essere visto anche questo accordo come se fosse un sol settima, tredicesima, bemolle nove, come se ci fosse il bemolle nove al basso, ok? Quindi in questo caso questo accordo potrebbe essere, se dovessimo ragionare in modo approfondito, potrebbe essere anche il quinto, se lo vediamo sempre come se qui fossimo in fa, il quinto del quinto, ok? Questi sono ragionamenti, però io non scrivo niente perché non sarebbe corretto scrivere così propriamente, però comunque questo vi fa intendere che tutte queste, come dire, questi modi di comporre, di usare questi accordi, provengono comunque sempre da delle conoscenze di base, che vengono sempre sempre più, si evolvono sempre sempre di più, però se poi li guardiamo da vicino scopriamo che non sono neanche così complessi come pensiamo. Ok, tornando indietro, su questo la bemolle diminuito, ottofonica o arpeggio diminuito di la bemolle, ok? E quindi dicevo perché non qui quinto del quinto? Perché ovviamente il si è da tenere su questo accordo, ok? Non metterei un si bemolle su questo la minore sesta, ok? Anche perché la nona solitamente ha una buona tensione, ok? Andiamo avanti. Sicuramente invece qui, dalla quinta battuta, siamo in fa maggiore, ok? Perché quindi questo secondo grado, quinto grado, e questo siamo al primo, e il primo, ok? Quindi Dorico, Misolidio, Ionio, Ionio, ok? Andiamo avanti che il tempo stringe. Qui, allora, sicuramente qua è come se fossimo in Do, sicuramente da qua. Poi potremmo dire anche da qua, ma non voglio complicarvi la vita. Perché comunque, anche questo è il ragionamento interessante. Qui, come anche ci consiglia, l'ultima parte di questo brano, che poi tutta questa progressione doveva finire, qua, sul Do, ok? Quindi qua fa la stessa cosa, ci fa già intendere che stiamo andando sul Do, però decide di non finire sul Do, ma ritorna indietro sull'A minore sesta, ok? L'A minore sesta è molto vicino, come note, praticamente al Do maggiore, quindi al La minore. Quindi questo Sol settima, abbiamo le nove, che ritorna poi sul La minore sesta, potrebbe essere visto quasi come una risoluzione di inganno, ok? Quindi dal, quindi il quinto grado che risolve sul sesto grado, però questo sesto grado, se lo vedessimo dal prospettiva di Do, c'è la sesta, ok? Quindi, come dire, ritorna su una risoluzione di inganno, ma ci mette la sesta, quindi non siamo propriamente in Do, ma ritorniamo appunto sull'A minore sesta, che però non è lontano dal Do, ok? Spero di non confondervi le idee, comunque perché ha un po' di basi di armonia, penso che mi seguite. Ok, questo, torniamo indietro, questo fa minore settima, ok, sicuramente qua Dorico e qua Misolidio, senza dubbi. Nel senso che questo fa maggiore, il ritorno diventa minore, fa un 2,5, qui fa un 2,5, che in teoria sarebbe di Mi bemolle, ma anche qua questo probabilmente 2,5 serve perché questo Si bemolle settima è una sostituzione di Tritono, che va a risolvere sul, su questa dominante, sulla settima, ok? Però io non segno niente per non farvi confondere, anche se poi per chi mi segue sa che la sostituzione di Tritono richiede solitamente di default la Lidian Dominant, ok? Però comunque qua non la mettiamo alla Lidian Dominant perché non viene specificato e secondo me non suona in questo caso, però potreste anche utilizzarla, perché comunque va ad introdurre già un Mi naturale che poi verrà suonato qui, ok? Però non segno niente qua. Su questo Mi minore settima, se siamo in Do, questo è un terzo grado, quindi Frigio, sicuramente è un Frigio perché guardate c'è anche il Fa in melodia, anche se è una Void Note però a quanto pare ci sta. Certe volte viene segnato questo anche come Mi settima. Ok, poi c'è questo La quinta eccedente settima che si usa una Misolidia bemolle tredici, che va a risolvere sul quinto del quinto, ovviamente partendo dal presupposto che siamo in Do in questo momento, quinto del quinto che è il quinto del quinto, va a risolvere su questo che è il quinto, che poi c'è una risoluzione che non risolve ma ritorna al La minore sesta dal ragionamento che facevamo prima, ok? Quindi se qua siamo in Do, questo La minore settima è un sesto grado e olio, anche se potreste anche scegliere un Dorico, qua sta al vostro gusto, Re settima Misolidio, Re minore settima Dorico, e qui c'è un bemolle nove e qua non vedete che ritorniamo al ragionamento che facevamo prima qua. Perché lo mette questo? Perché questo è come se fosse lo stesso accordo se noi mettiamo anche come tensione il Mi naturale su questo La bemolle diminuito, è come se fosse un Sol settima a tredicesima a bemolle nove al basso, ok? I ragionamenti ritornano. Vi avevo detto che era complesso questo brano, ok? Quindi vi ho detto tutto fino a qua. Qui ritorniamo allo stesso punto, fino a queste battute io segno che non segno nessuna tonalità, segno solo che siamo in La minore sesta, quindi ci sta a indicare Dorico, siamo un diminuito discendente che discende qua al Mi minore settima, quindi qua siamo sicuramente in Fa. Stesso discorso che dicevamo prima, ok? Non ripeto le stesse cose così da non far troppo lungo questo video. E arriviamo all'ultima parte, ok? Qua stesso ragionamento. Allora, qui ovviamente Jobim cambia delle cose, cambia delle carte in tavola leggermente quasi impercettibili, ovvero che questo Mi rimane uguale. Questo là, che qua era settima, qui diventa praticamente minore settima. E questo 2.5 poi non risolve neanche più, non vedete? Prima c'era una risoluzione qua sopra che andava a risolvere qua perché era un settima. Adesso non ce n'è anche più. Non vedete come cambia le carte, cambia di poco, ma cambia qualcosa, ok? Quindi qua sempre Dorico, qua non segno niente. Qua invece Lydian Dominant perché? Perché qua c'è proprio nella melodia, qua proprio si sente una quarta eccedente, ok? Quindi qua torniamo in Do. Ok, torniamo in Do. Quindi questo terzo grado, Frigio. Questo sesto, quindi Eolio. Anche se qua c'è scritto che certe volte usano anche la settima. Questo secondo grado, Dorico. Questo quinto grado, bemolle 9. Ah sì, forse qua non vi ho detto, ma qua quindi potete usare la stessa risoluzione, un'ottofonica. Ok? Quindi potete partire anche da qua dalla bemolle, tono, tono, semitono, tono, semitono. Se partite dal Sol, semitono, tono, semitono, ok? Ok, qua questo la settima perché ci fa capire poi il Mi minore settima, bolle 5. E in questo caso è proprio un quinto del secondo. Ok? Che in teoria nel quinto del secondo si usa solo Misolidia, bemolle 13. Ma vi dirò, quando lo suono questo passaggio suona molto bene, anche se mettete una bemolle 9. Quindi scelta vostra. O semplicemente bemolle 13 o bemolle 9. E ci sta anche qua un arpeggio diminuito. Ma questi sono i miei consigli personali. Di default sul quinto del secondo Misolidia, bemolle 13. Qua ovviamente 2.5. Torico. Misolidio. E come vedete siamo tornati finalmente al Do. Facendo tutta questa avventura di accordi, questi piccoli cambi, eccetera. Voglio solo riguardare, se ho detto giusto qua, questo, ok. Ok, sì, questa qui è come se fosse una dominante estesa perché precede il quinto del quinto. Però è segnato anche nella melodia che c'è il fa naturale. Quindi sì, qua Misolidio, bemolle 13. E basta. Ok? Spero di avervi detto tutto. Ah no, aspettate, mi sono dimenticato di questo Mi minore 7, meolle 5, l'ocrio. Che praticamente è un 2 relativo che accompagna la dominante secondaria. Ok? Vediamo se ho detto tutto. Perché purtroppo è complesso. Ok. Spero di avervi detto tutto. E di non essermi dimenticato niente. Questa analisi secondo me è complessa e può essere vista in più modi. Sicuramente c'è chi la vede in modo differente. Ma penso che vi ho dato un po' le idee più semplici e più logiche per farvi capire questo brano. Se ti è piaciuta questa analisi, lascia un like, lascia un commento se hai dei dubbi o delle domande. Se sei qua per la prima volta, iscriviti al canale per vedere altre analisi e altre lezioni di chitarra jazz e non solo. E ti auguro un buono studio e ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto. Ciao. 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 Ciao.